Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video! Vi racconto del mio primo weekend in van e dell'altopiano di Asiago e dintorni, adesso andrò anche alle cascate quindi ci sarà anche un po' di acqua e un sacco di verde e pace. Vi ricordo che sono uscite le date della vacanza in bicicletta, del viaggio in bici che propongo come guida, trovate il link in descrizione qui sotto. Andate a dare un'occhiata, se avete qualche dubbio scrivetemi, i posti sono molto pochi quindi affrettatevi e buona visione! Pronti in partenza per il primo weekend sul furgone, attrezzato molto alla buona e direzione altopiano di Asiago e poi vedremo on the road cosa fare. Bene, sono arrivata a destinazione a Rubio, mi trovo qui alle spalle con il mitico furgo, si è comportato abbastanza bene in salita. Rubio gode di una posizione panoramica ottima sulla pianura, oggi poi c'è una bella limpidità, c'è un cielo sereno e adesso vi mostro. Grazie a tutti! Mi trovo nella cava mascherata che è un'opera di Tony Zarpellon, si trova qui a Rubio e sopra Bassano, infatti Tony Zarpellon è bassanese, è un artista locale ma conosciuto a livello nazionale. Liberazione dai miti e dagli incubi della civiltà industriale e dei consumi. Trovo che sia molto carino da parte degli artisti regalarci queste opere in ambienti naturali, quindi grazie Tony Zarpellon. E ora mi trovo nella cava dipinta, sempre opera di Tony Zarpellon e sempre una rivalorizzazione del territorio. Il rapporto con il silenzio e lo spazio aperto della natura aiuta a scoprire la propria identità. Grazie a tutti! 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 chiudo questo video dopo due giorni di trekking, avventure e belle cose viste sono stata veramente contenta, sono stati due giorni di vacanza e vi ricordo di iscrivervi al mio canale, seguirmi su instagram, su facebook, trovate tutti i link in descrizione e per chi volesse fare una bella vacanza in bicicletta con me quest'estate guardate tutto quanto qui sotto nel link che vi lascio ciao alla prossima